Sviluppato dai canadesi di Next Level Games e uscito originariamente nel 2013 per Nintendo 3DS, Luigi's Mansion 2 ebbe il grande merito di riportare alla luce una saga che sembrava ormai dimenticata a dodici anni dal primo capitolo. Oggi Luigi's Mansion 2 HD ha invece l'honor e l'onore di rispolverare l'avventura con un'opera di ammodernamento in alta definizione, disponibile dal 27 giugno su Switch. Ma ha davvero senso giocare oggi il secondo capitolo dopo aver affrontato il terzo e soprattutto come è stato realizzato l'adattamento. Beh, seguiteci fra i fantasmi se volete saperlo. Tutti i capitoli della serie Luigi's Mansion hanno in comune certe meccaniche, sono infatti titoli dal ritmo lento, ambientati in spazi chiusi e con scenari infestati da fantasmi che Luigi deve scovare e catturare attraverso un particolare aspirapolvere costruito dal professor Strambik, in questo caso il Poltergast 5000. Gli spettri vanno quindi prima accecati con la torcia, poi aspirati con pazienza, inclinando lo stick direzionale nella direzione opposta a quella in cui i fantasmi trascinano il nostro idraulico verde. Tuttavia il Poltergast 5000 è anche il principale strumento di interazione col mondo di gioco, e può infatti aprire cassetti, aspirare lenzuola, tirare e lanciare oggetti di vario tipo. Ogni stanza inoltre presenta dei piccoli enigmi ben congegnati, necessari a raggiungere un obiettivo secondario o a catturare uno spettro. In termini di level design è fondamentale che tutti gli elementi siano interattivi, non è infatti mai troppo evidente quale sia la soluzione, e questo proprio perché è possibile toccare ogni cosa, da vasi che possono essere scossi fino a tende aspirabili. Ad ogni modo, nel caso in cui un enigma si riveli troppo arduo da risolvere, la chiave risiede comunque in qualche dettaglio che il giocatore aveva trascurato. E sono tutte dinamiche queste che funzionano benissimo ancora oggi in questa riproposizione HD del titolo. L'avventura inizia col professor Strambik intanto a studiare alcuni spettri sorprendentemente amichevoli grazie agli influssi della luna scura. Quest'ultima però purtroppo viene fatta a pezzi da qualcuno, e i fantasmi a questo punto impazziscono e Cuba Valle cade nel caos. Strambik si rivolge quindi a Luigi, come al solito pauroso e svogliato, che viene costretto ad andare in missione una volta strappato dal suo dormiveglia in poltrona. L'incarico del protagonista è dunque quello di ritrovare tutti i frammenti di luna scura sparsi in cinque diverse dimore, e le ambientazioni sono differenziate e tematicamente distinte, ma non aspettatevi una varietà in stile Super Mario. Non esistono infatti passaggi da distese deserti che a scenari marittimi. Qui infatti abbiamo sempre a che fare con architetture circoscritte e con qualche divagazione all'aperto. L'elemento identitario più forte del titolo non è rappresentato tuttavia dalle Cinque Magioni, bensì dalla segmentazione in missioni. Ciascuna struttura non si esplora infatti dall'inizio alla fine, ma propone quattro o cinque incarichi di durata variabile. Ed è una scelta questa che differenzia questa avventura di Luigi da quella precedente e da quella successiva, influenzando soprattutto il ritmo di gioco, perché è bene ricordarlo, Luigi's Mansion 2 nasce come esperienza portatile. La suddivisione in missioni era infatti perfetta per il 3DS, ma in un'ottica casalinga tutto ciò ha molto meno senso. Volendo giocare infatti un'ora o due, la frammentazione strutturale incide parecchio sul ritmo generale, senza contare poi le intromissioni di Strambic, che non sono continue ma comunque eccessive e che contribuiscono a spezzettare ulteriormente l'esperienza. Questa suddivisione tutto sommato però introduce anche alcuni pregi, e il primo è senz'altro la rigiocabilità. Al termine di ogni missione, infatti in base ai danni subiti e alle monete raccolte, a Luigi viene assegnata una medaglia, e trattandosi di incarichi piuttosto brevi dunque il giocatore è incoraggiato a riprovarli, così da migliorare il proprio punteggio e sbloccare gli obiettivi secondari. Il secondo pregio risiede invece nelle conseguenti modifiche all'ambientazione, che sarebbero state impossibili in un'avventura dal flusso continuo. All'interno di uno stesso edificio l'alterazione di certe condizioni permette infatti delle variazioni, e quindi una volta potreste dover salvare un Toad la cui presenza genera ostacoli, ad esempio, mentre un'altra magari potreste trovare delle ragnatele in un corridoio, che nelle precedenti missioni erano invece assenti. Ogni lista di missioni si conclude poi con lo scontro con un boss, e a livello di creatività sono senza dubbio tutti apprezzabili, ma in termini di qualità nella scala di difficoltà non si può dire che Luigi's Mansion 2 HD raggiunga l'eccellenza. Le missioni infatti sono poco sorprendenti, in ogni dimora va salvato un Toad, va seguito un Polter Cucciolo e va raccolta una serie di oggetti per aprire una porta. E poi, come se non bastasse, la varietà dei fantasmi è pure inferiore per quantità al terzo e episodio, e per qualità persino al primo. A livello visivo il titolo ha ovviamente perso l'effetto 3D stereoscopico dell'originale su 3DS, tuttavia il framerate è migliorato ed è granitico, e l'alta risoluzione porta inoltre l'esperienza visiva su un altro livello. Ma nonostante questo, e nonostante i modelli poligonali di qualità superiore, l'impatto generale è decisamente inferiore a Luigi's Mansion 3, specie nell'illuminazione. Il livello generale delle musiche e del sonoro inoltre è sicuramente buono, ma non raggiunge comunque l'eccellenza del primo capitolo della saga, e questo anche per via di alcuni effetti addirittura fastidiosi. L'avventura principale poi non è affrontabile in multiplayer cooperativo, a differenza del sequel, ma è comunque presente una modalità a parte per più utenti, chiamata la Torre del Caos. E qui è possibile alterare il livello di difficoltà, giocare online e offline, ma in quest'ultimo caso soltanto avendo più di una console e più di una copia del gioco. Ed è un fattore questo che fa riemergere le evidenti origini portatili del prodotto. Luigi's Mansion 2 HD è in generale un'opera di alto livello. L'interazione e i controlli sono ludevoli, l'atmosfera è gestita bene e le cinque ambientazioni trovano il giusto equilibrio tra coerenza e varietà e sono inoltre dotate di enigmi ingegnosi e ben strutturati. Il titolo presenta comunque alcune imperfezioni qua e là, qualche sbavatura nel level design e uno stile grafico troppo simile a quello del terzo episodio, ma il problema principale tuttavia risiede nell'origine portatile del gioco, con una suddivisione in missioni che perde ulteriormente senso su Switch. E senza contare poi che il multiplayer con più console e l'assenza di quello cooperativo appaiono come due restrizioni davvero limitanti. Paradossalmente però questa poco funzionale struttura in missioni è anche la caratteristica che lo rende unico all'interno della saga, e quindi interessante per un appassionato. Voi ad ogni modo cosa ne pensate? Vi aspettavate un restyling con qualche sforzo in più per Luigi's Mansion 2 o quello che conta è comunque poter riaffrontare l'avventura su Switch? Deteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e le notizie provenienti dal mondo Nintendo. Prima di andare, mi raccomando, lasciateci un bel mi piace e date anche un'occhiata ai contenuti qui accanto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione, sempre qui, su Multiplayer.it.